Juve, duro attacco della Del Toro. Il derby Juventus Torino fa già discutere. A scatenare la polemica è un post su Instagram della pagina ufficiale della curva Maratona. Gruppo più importante del tifo organizzato Granata. Nella nota si legge che la curva non sarà presente al derby contro i bianconeri in programma martedì 28 alle ore 20.45. Il motivo? L'iscrizione al sito della Juventus per acquistare i biglietti. Torino. Il comunicato della curva Maratona per prendere i tagliandi infatti, chiunque è obbligato a registrarsi nel sito web dei bianconeri. Fatto contestato dalla curva Maratona. Queste le parole nel comunicato, il nostro essere ultras è totalmente incompatibile con le ridicole condizioni che vorrebbero imporci e rinunciare al derby fa male. Ma l'idea di scriverci al loro sito è disgustante, non possiamo piegarci alle regole dei gubbi. Lasciamo il settore vuoto e invitiamo tutti i tifosi ad unirsi a noi, inoltre la curva invita tutti gli altri tifosi Granata a disertare il settore ospiti dello stadium e ritrovarsi all'Olimpico di Torino per vivere insieme il derby. Virgola.